Ancora un terribile incidente lungo la 1, ancora una vittima retina. A perdere la vita Carmine Cutillo, 61enne di Bucine, travolto ed ucciso da un camion, un impatto che non gli ha lasciato scampo. Il drammatico incidente poco dopo le 18.30 di giovedì 29 giugno, tra la confluenza della 11 e l'uscita di Scandicci. Immediata la paralisi della circolazione con l'autostrada del sole rimasta a lungo bloccata sia dai mezzi di soccorso che dalla polizia stradale, intervenuta per i rilievi di legge per regolare la circolazione, riaperta solo in serata. Resta ancora da chiarire la dinamica della tragedia, da capire perché l'uomo abbia accostato nella piazzola per poi muovere pochi passi verso le corsie di marcia. Una notizia che adesso lascia incredula l'intera comunità di Bucine. Si tratta della seconda vittima retina nell'autostrada del sole in una settimana. Lo scorso giovedì a perdere la vita Kasia Buscema, una studentessa di Chiusi della Verna che con la sua famiglia stava tornando da una breve vacanza. Un terribile incidente tra le uscite di Fabro e Chiusi nel comune di Città della Pieve. Per sostenere la famiglia della giovane, gli amici hanno organizzato anche una colletta online che ha raccolto più della metà dei 10.000 euro posti come obiettivo dai promotori.